Immaginati di avere una newsletter e gli iscritti alla newsletter sono Bill Gates, Obama, Charlie Munger e il Papa. A questo punto hai quattro iscritti, ma quei quattro iscritti spostano le sorti del pianeta. Se tu riesci a far appassionare le persone a dei concetti, poi istintivamente vanno ad approfondirli. Sentite che bella sta frase. L'eccellenza è i prossimi cinque minuti.